Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, 5 km di coda tra BB1 Variante e Badia verso Firenze per veicolo in avaria, in carregiato opposta rallentamenti per traffico tra Calenzano e BB1 Variante. In FIPILI restano rallentamenti per lavori tra Ginestra e La Strassigna verso Firenze, in carregiato opposta ricordiamo che per lavori l'uscita di Tirrenia è chiusa. La canteristica sulla SR2 Cassia, senso unico alternato ai restringimenti tra i km 287,7 e 288,2 circa nel comune di Impruneta fino al 23 giugno. Il provvedimento è in vigore H24. Ci spostiamo sulla SR429 di Valdelsa da quest'oggi 20 maggio fino a mercoledì 22, H24, senso unico alternato ai restringimenti dal km 40 e 400 al km 47 nel comune di Poggi Ponzi. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!